Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud, chi vi parla è il vostro sempre più cacciatore di taglie del multiverso Puzzillo e oggi vediamo il tutorial e l'anteprima di DreamSpace Mission to Merceylvania. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno, non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi allora abbonatevi al canale o cliccate sul tasto grazie. Inoltre se il progetto vi ispira vi informo che proprio nella giornata odierna parte la campagna Kickstarter per un periodo limitato e se volete maggiori informazioni vi consiglio di contattare gli autori, mentre se volete partecipare alla campagna Kickstarter vi lascio qui il link. DreamSpace Mission to Merceylvania è un gioco da tavolo competitivo da 2 a 5 giocatori della durata indicativa di 90-120 minuti a partita, edito dalla DreamSpace Limited che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e infine gli autori sono Michele Badolato e Raffaele Guandalini. Ambientato in un multiverso pieno zeppo di cacciatori di taglie, il nostro obiettivo sarà quello di esplorare il mondo di Marsilvania, ovvero una versione alternativa del nostro pianeta Marte però popolato da vampiri licantropi e androidi. Lo scopo è quello di dare la caccia al bersaglio della nostra taglia così da essere gli unici a ottenere la ricompensa. Mi raccomando fate attenzione agli altri agenti che cercheranno di rubarvi l'equipaggiamento oltre alla taglia e infatti non ci sarà pietà nemmeno tra i colleghi. Tra maledizioni, incantesimi e reliquie dovremo diventare il cacciatore di taglie più potente. Prima di partire con il tutorial vi informo che questo è più una panoramica siccome stiamo parlando di un prodotto non definitivo, optato per un contenuto più snello e veloce ma tranquilli che comunque vengono evidenziati i concetti chiave. Detto ciò direi che possiamo iniziare e quindi vai con la panoramica. In Dream Space i giocatori impersoneranno dei cacciatori di taglie del multiverso che dovranno affrontare le insidie del pianeta Marsilvania. Tra vampiri licantropi ed altre mostruosità dovranno raggiungere il covo del Lord Vampiro così da riscattare la taglia e il prestigio. Gli agenti della Dream Space Limited competeranno tra di loro per arrivare all'obiettivo sfruttando capacità come le magie e le statistiche che determinano punti di forza e punti di debolezza. Non appena il pianeta è pronto prepariamo i mazzi degli incontri come anche alleati, equipaggiamento e magia che troveremo e nel momento in cui abbiamo sistemato gli ultimi ritocchi i cacciatori di taglie possono atterrare. L'atterraggio viene effettuato nella zona più tranquilla di Marsilvania ed è proprio da questo punto che parte la sfida. Lo scopo è di procedere verso le zone più scure del pianeta G197 ma per farlo bisognerà superare i guardiani. Un giocatore durante il proprio turno deve per prima cosa spostare il suo cacciatore e ciò significa tirare due dadi utilizzando i valori sulle facce mostrate e aggiungendo il proprio valore di velocità. il movimento in ortogonale costa un punto mentre il movimento in diagonale ne costa due. Concluso il movimento risolve gli effetti della zona dove si è fermato e poi se nel suo spazio ci sono altri agenti allora è possibile scambiare con il permesso degli altri oppure tirando tre dadi e ottenendo il risultato di tre spade possiamo rubare una carta a un altro cacciatore di taglie. Fatto ciò peschiamo una carta incontro nello stesso livello in cui ci troviamo e gli incontri possono essere effetti che vanno applicati oppure nemici che bisogna sconfiggere. Un combattimento può durare un massimo fino a tre round e per prima cosa il giocatore deve scegliere se attivare una magia o una sua abilità e questo viene ripetuto all'inizio di ogni round di combattimento. Fatto questo si può effettuare un attacco normale oppure magico e non dimentichiamoci di applicare bonus e malus del nemico. In caso di attacco normale ogni spada è una ferita mentre con il magico vengono prese in considerazione le pozioni. Fra l'altro ci servirà il mana per utilizzare le magie e se il nemico non viene ucciso allora è il suo turno di attaccarci. Qui prendiamo in considerazione il suo valore di attacco ma noi applichiamo come malus la nostra difesa. Concluso l'attacco si ripete la procedura a partire dall'attivazione di un'abilità o una magia e se entro la fine dei tre round il nemico viene sconfitto allora otteniamo la sua carta come ricompensa altrimenti saremo costretti a fuggire. Fuggire significa muoversi in verticale tornando indietro o in orizzontale se non è possibile in verticale. Infine concluso l'incontro è possibile spendere carte nemico in modo che la somma del loro attacco arrivi a 7 così da ottenere un equipaggiamento, una magia oppure un alleato. Fate attenzione perché ogni cacciatore di taglie ha un limite di carte che può ottenere e questo viene indicato sulla sua scheda. Man mano che la missione proseguirà si incontreranno i boss delle varie zone e quando un agente raggiunge una nuova zona allora ottiene un livello. Ottenere un livello significa acquisire nuove abilità come anche potenziare le statistiche e tutto ciò servirà per arrivare al meglio nello spazio finale del terzo livello dove bisognerà affrontare lo sgherro prediletto del nostro nemico e poi bisognerà sconfiggere il boss finale. Il primo cacciatore che riuscirà in quest'impresa otterrà la taglia e quindi il giocatore vincerà la partita ma fate attenzione poiché il pianeta di Marsylvania nasconde ancora tanti segreti come le maledizioni e dunque farà di tutto pur di rendervi la vita davvero ardua. Arriviamo infine alle mie impressioni iniziali su Dream Space Mission to Marsylvania. Il gioco è un dungeon crawler competitivo che punta fortissimo all'aspetto nostalgia e infatti devo dire che ho apprezzato parecchio lo stile da videogioca 8 bit. A livello di meccanica e gameplay è davvero semplice infatti è possibile intavolarlo con giocatori occasionali e non appena il pianeta è stato preparato, i personaggi scelti, i mazzetti mescolati si entra subito nel vivo dell'azione. Personalmente mi ha ricordato uno stile di gioco molto simile a Talisman dove però qui abbiamo più controllo. Sul movimento decidiamo noi dove andare perché comunque sommiamo i valori dei dadi più alla nostra statistica però poi è un tripudio di incontri casuali. Occhio eh, non che la cosa sia un male ma semplicemente il gioco punta alla spensieratezza. Piuttosto classico per quanto riguarda l'andamento del genere ovvero mi muovo sulla mappa, risolvo gli effetti della casella e poi dopo aver avuto la possibilità di scambiare o rubare una carta a un altro giocatore bisogna risolvere l'incontro. Questo può essere un evento che si attiva nell'immediato oppure un nemico da sconfiggere. Anche il combattimento è piuttosto immediato dove attacchiamo con attacchi normali oppure magici e poi ci dobbiamo difendere utilizzando i nostri potenziamenti protettivi e se non riusciamo a sconfiggere il nemico entro tre round di combattimento allora bisogna fuggire. Il gioco alla fine è una corsa dove bisogna arrivare al boss finale e qui il primo giocatore che riesce a ucciderlo vince la partita. Però bisogna fare attenzione perché è un po' come il Runebound. Ognuno dei partecipanti ha una sola possibilità di ucciderlo e questo una volta attivato inizia a muoversi per la mappa e attaccare i vari presenti. Durante il viaggio avremo comunque la possibilità di poterci potenziare tramite la pesca di equipaggiamento alleati e magia e poi ottenendo livelli superando le zone del mondo. Dreamspace propone un'ambientazione particolare dove vengono mescolate creature sovrannaturali a tecnologie futuristiche fondendoci il concetto del multiverso. Per quello che mi riguarda è un progetto interessante per il suo target ovvero giocatori occasionali che cercano un dungeon crawler davvero molto semplice e immediato. Detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate vi ispira questo progetto vi è piaciuta la mia panoramica voglio sapere la vostra commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi allora abbonatevi o premete sul tasto grazie vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti